Continua a scendere in Abruzzo il numero dei contagiati e oggi sono 19 in regione i nuovi positivi al covid-19 di età compresa tra i 3 e gli 81 anni. In particolare sono stati eseguiti 2.079 tamponi molecolari e 6.787 test antigenici con un tasso di positività in picchiata che scende al 20%. Dato ancora più importante, dopo la vittima di ieri nel Terramano, oggi non si registra nessun decesso a causa del covid in regione, mentre resta invariato il numero dei guariti che sono fermi a 77.581, anche se nel dato va tenuto conto della bassa attività degli ospedali per quel che riguarda le dimissioni dei pazienti nei weekend. Aumentano pertanto di 19 unità gli attualmente positivi che diventano complessivamente in tutta la regione 1.494. Sul fronte ospedaliero 49 sono i ricoverati in area medica con un aumento di 3 pazienti nelle ultime 24 ore, mentre c'è da registrare un nuovo ingresso in terapia intensiva negli ospedali con 6 pazienti complessivi in tutta la regione. Sono infine 1.439 i malati in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, con 15 pazienti in più nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi di oggi 10 sono residenti in provincia dell'Aquila, 6 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Pescara.